Siamo a Succivo con alcune mamme che stamattina si sono presentate al Comune, dovevano avere un buono destinato alle madri nubili che è stato erogato dal Comune a dicembre. Che cosa è successo? È successo che siamo venuti qua in banca e ci hanno detto che il Comune di Succivo non aveva mandato i soldi e noi dovevamo sapere che fino hanno fatto i nostri soldi di madri nubili. Questa è la prima volta che è andata al Comune? Sì, è la prima volta. Al Comune che cosa avevano detto invece? Al Comune ci hanno detto che i soldi c'erano e che l'hanno mandato in banca e in banca hanno detto che il Comune non ha mandato niente. Non si sa comunque che fino hanno fatto quel soldi. Non si sa che fino hanno fatto i nostri soldi. Adesso voi aspettate? Sì, aspettiamo qui il direttore che viene e ci deve dare una spiegazione.